Sono Enzo Angelino, titolare della Villoratur. A mio parere non è che ci sia una interdipendenza tra le questioni liberiche e quelle egiziane, però ciò non di meno bisogna tenere presente che sull'immaginario collettivo questa correlazione ci sia, per cui sicuramente la ripresa sarà più lenta. Se si rassenererà la situazione nell'area geografica, indipendentemente da tutte le nostre iniziative, la destinazione ha autonomamente tali risorse da ripartire molto velocemente.